Una buona serata a tutti da Marco. L'impulso freddo nord-orientale è ormai giunto sulla nostra penisola ed in questa parte serare di giornata le manifestazioni temporalesche stanno insistendo soprattutto sulle regioni del centro Italia, mentre al nord la situazione tende a migliorare. Domani ancora forte instabilità soprattutto nelle regioni centro-meridionali, ma per domenica i temporali potranno di nuovo coinvolgere anche le regioni del nord. Sulla nostra regione il maltempo attualmente in atto proseguirà anche durante la notte e per buona parte della giornata di domani. Precipitazioni intense e persistenti potranno manifestarsi sull'intero settore regionale. Non sono escluse precipitazioni a carattere nevoso, anche sotto i 2000 metri. La ventilazione insisterà di debole intensità dai quadranti settentrionali ed i mari continueranno ad essere mossi o poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, i valori minimi della notte saranno decisamente freschi per il periodo, compresi tra 7 e 12 gradi. Stazionari i valori massimi della giornata di domani compresi tra 14 e 19 gradi. È tutto per la meteo. Buon proseguimento di serata.